buongiorno ecco ci troviamo più che ci troviamo mi trovo qui nel giorno vediamo un calendario nel venerdì 12 marzo 2021 e mi accingo a fare vedere uno dei tanti video che ho già fatto diciamo della mia vita che sono ricavate dalle fotografie che ho messo in tanti album in tutti gli anni in tanti anni altrimenti non avessi avuto queste foto non avrei potuto fare quello che quello che sto facendo cioè fare dei video in modo che rimangano diciamo un po più nel tempo perché tutte le altre cose le foto si deteriorano eccetera eccetera e anche lo stesso sito internet non so bene che fine farà e quindi con questo youtube probabilmente dato che ci saranno miliardi di video di tante persone che che li fanno allora ci sta ci stanno anche i miei allora adesso vi faccio vedere allora questo è l'anno aspettate che vi concentriamo bene lì questo è ben centrato questo è l'anno 1992 vedete qua la prima cosa è che qui c'è gianni e ovviamente le foto ho visto che seguono in pratica la vita uno cambiano cambiano gli argomenti in base ai personaggi che ad esempio gianni sta crescendo e cosa fa si seguiva quello che che stava facendo gianni gianni in quel momento andava qui questa palestra il karate e la cintura verde ed era anche bravino e poi era bello era un bel luogo per passare un po di tempo per non stare in mezzo alla strada per non stare in mezzo alla strada che sappiamo che sappiamo che cosa porta in genere allora andiamo avanti ecco qui beh non vi dico niente perché le scene parlano da sole andiamo avanti ecco qua allora qui invece siamo sempre nel 1992 e cosa abbiamo abbiamo che siamo andati una volta alla nella parrocchia di asti intitolata santo benico savio dove padre secondo mio cugino missionario era lui era in missione in costo d'avorio e monica andava giù quasi tutti gli anni anzi tutti gli anni è andata 27 volte dal 1987 primo anno in cui siamo andati giù io e lei assieme quasi sempre andata da sole allora qui c'è un incontro che ovviamente si parla di missione perché questo qui che sta parlando questo qua è un padre si chiama padre angelo besenzoni ed era lì lui è stato tanti anni in africa anche lui per questo periodo era genova dove c'è la casa madre e poi faceva questi incontri per sensibilizzare le persone alla alla missione e qui eravamo appunto ad asti e qui se vedete bene dunque allora qui c'è c'è monica qui ecco sì beh qua dietro eccola qua monica la ci sono io avevo anche la cravatta per sateli e loro si usavano questo riguarda appunto la missione era un incontro che era stato fatto per sensibilizzare questo non c'entra niente cioè non c'entra niente c'entra perché sono delle foto dei nostri cari cari cagliolini e gattini questo veramente era di laura questo qua è il nostro papi primo cane bianco che abbiamo avuto si chiamava papi bravissimo eh durato non so 15 16 anni e poi è morto ecco qua allora un'altra cosa nel gennaio del 1992 siamo andati a visitare lo zio lo zio prete no che 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 era don secondo cantino che è uguale al nipote padre secondo cantino ma questo era un'altra cosa era pa è stato parroco a castagnetopo no scusate sono semplicemente nel castagnetopo dove sono stato diacolo è stato parroco a via tosto per ben 45 anni e poi diventando vecchietto come vedete vecchietto è andato alla casa di una casa di riposo che si chiama oasi oasi dell'immacolate che è lì ad asti e noi e noi qui all'inizio del del 92 siamo andati a trovarlo qui c'è anche ci siamo andati con gianni e e la ci sono io ah c'è ancora quella maglia sì è passati un po di anni ecco qua lo zio don secondo e anche questo meriterebbe un video solo per lui ma lo farò lo farò andiamo avanti qui c'è genova la festa della sma e riunione con padre angelo sempre quel padre di prima che c'era che abbiamo visto prima padre angelo che è quello lì quello lì e questo è un gruppetto abbiamo fatto una riunione si parlava di cose della missione poi avevamo già anche c'era di mezzo già il duma ecco questo è un tabellone fatto per pubblicizzare il duma il duma era vuol dire diamo una mano che era fatto per aiutare padre secondo e costavorio e altri missionari e a questo di missionari che c'erano in quel momento lì a genova adesso un po diminuiti perché molti sono morti come ho detto ci troviamo nel 2021 quindi 30 anni dopo è una robetta da niente diamo avanti qui cosa c'è ecco ah beh qui c'è quel frattempo noi avevamo la nostra abitazione a torino abitavamo a torino e qui c'è uno scorso la curiosità l'ho trovato questa foto qua è particolare dove si vede la 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 olivetti è la prima video scrittura primissima perché mi serviva appunto per fare il duma per fare anche altre cose io facevo il disegnatore meccanico allora usavo per fare fatture queste cose e comunque maggior parte l'ho presa per fare il il duma poi nel frattempo facevo anche bollettini parrocchiale lì a torino insomma sempre fatto bollettini parrocchiali tanto per dire ecco che è lo studio questa è la vista dall'altra parte adesso infatti la pianta è lì vedete e qui di qua c'è uno scaffale e di qua era l'entrata lui c'è questo mobiletto che è il mobiletto che che si vede quando quando io giro così se vi faccio vedere mi sposto un po ecco vedete no devo spostarvi di qua quel mobiletto la è questo che vedete lì in fondo ecco lui allora vabbè a parte questa piccola curiosità niente per dire che ce lo siamo portato dietro che era un bel mobile e allora ce lo siamo portati indietro dietro da lì poi a castelletto proprio qua frico eccetera boh qui c'è una pagina dove c'è monica nel 92 come dicevo monica è andata dal 97 che siamo andati io e lei poi 98 99 ne due no scusate scusate 87 88 89 90 sono di nuovo andato anch'io poi lì mi sono preso la malaria e lei invece ha sempre continuato ad andare e infatti qua due anni dopo 90 lei era ancora lì e ha sempre insomma trafficato ha fatto sempre un sacco di cose cioè prendeva i bambini che bambino di aiuto noi trovavamo gente qua che li aiutava con le adozioni a distanza le abbiamo chiamate adozioni a distanza e qua nel frattempo avevano fatto su un padre secondo ho fatto un un asilo è un asilo questo padre valter cortile dell'asilo padre secondo con monica guardate che bel vestito che aveva e boh vedete beh qui il refettorio qui anche qua lì si mangia si beve e qui c'è padre valter che che suona la chitarra padre vito e eccetera ah ecco questo è padre lorenzo e suor donata eccola la suor donata adesso la troveremo sovente ecco monica che parlava diceva le sue cose al microfono e poi qui risulta che è stata anche testimone a un certo costanza cristina che erano amici lì lì di san pedro in costo d'avorio allora gli avevano chiesto di fare da 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 testimone al loro matrimonio stiamo avanti oggetti artigianali ivoriani poi veniva quando veniva a casa portava sempre sempre qualcosa e qualche oggetto no molti li regalavano e c'era c'era gli amici lì che prima di venire via beh queste qua voglio me sono tutte cose regalate ma anche queste sì sì no no lei è tutti sì tutto tutto regalato anche questo qui ce l'abbiamo ancora ce l'abbiamo in sala ci chiama il wari è un gioco da tavolo della costa d'avorio si chiama avele o avele adesso non lo so bene ecco tra l'altro un po di queste cose sono ancora qui sopra il mobile e non si vede tanto comunque sono qua sopra in alto a questo mobiletto qua ci sono ancora parecchi di queste qua e ne abbiamo ancora anche da altre parti e poi ne ho messe anche a c'è molte 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 cose sono al museo di san difendente perché ho fatto museo lì con tutte queste cose che una san difendente una vecchia chiesa che c'è qua a frico non è più dove più adibita al culto e allora ho fatto un museo andiamo avanti piccole conchiglie avete visto che roba qui è capace di essere alta 20 e forse a centimetri allora poi ecco qui invece cambiamo argomento qui un giorno sempre nel 92 siamo andati a trovare a lione siamo andati a trovare la mamma di nonno michele che sarebbe la nonna di bonica di bonica qui c'era gianni e è la figlia di una nipota figlia del fratello di boni e lì sulle grubele che che non funzionano più tanto e uno non si ricorda più i nomi sparisco vabbè andiamo avanti ecco qua la non la nonnetta io monica e andiamo avanti così poi qui c'è sempre lì a lione ah sì avevamo incontrato una laica missionaria gran mer che abitava lì allora abbiamo detto guarda che ci troviamo lì è venuta a incontrarci questa è una fontana che c'è lì a lione ecco qua monumento cambiamo ancora argomento sempre del 92 foto curiosa del taglio del fieno c'era l'occasione qui non so se la doma non era borso qui era qualcun altro e hanno approfittato di queste balle di fieno per fare un po di foto coreografiche poi questa è una riunione presso la parrocchia via lei ecco come vedete man mano che passano gli anni io sono sempre più inserito nella chiesa per arrivare poi al fatto che che poi sono diventato diacono nel 98 ma già qui nel 92 ho fatto già un video ho spiegato un po le cose come è nata questa vocazione del diaconato e qui nel 92 aprendo una parentesi ero ero andato a scuola in curia la scuola di dizione è perché in chiesa se non parli se non parli che che gli altri capiscano diventa sempre più difficile e allora lì ho imparato molte cose imparato anche le basi diciamo tante cose la bibbia e tante altre cose interessanti e questa è buona riunione è fatta lì a al via nei parrocchia san giovanni merivinei che era la nostra parrocchia di torino questo sempre nel 92 va beh luca giorgia questa è la figlia di maurizio mio nipote e tommas per questi due sono i figli di radia ecco qua gianni diamo avanti questo è un'altra ecco qui ci troviamo a frinco a frinco in occasione di un concerto del coro la gerla coro la gerla con il mio amico roberto vertaina che era il dire lo è ancora adesso il direttore e mi avevano chiesto di fare il presentatore eccolo qua sto facendo il presentatore dei canti anche perché io cantavo anche io e un coro aspettate che chiudo qua un attimo eh ma incredibile vabbè comunque niente allora tanto qui è quasi finito stavo dicendo che roberto bertaina cantava anche lui nella corale salvia dove ho cantato anche io da tanti anni ma lui all'inizio poi ha messo su un coro per conto suo poi il giorno è venuto appunto a frinco questa è la chiesa la bella bella chiesa di frinco che adesso sono sei anni che non è più cioè che è chiusa a causa del castello che è caduto due o tre pezzi ecco qua allora lì terminato quello questo ecco l'ultimo mi pare che è l'ultima cosa dove è successo che il 22 settembre del 92 don secondo cantino che era il fratello di mio padre è venuto a mancare e questa è una di quelle foto che ho fatto in occasione di quando ero andato a trovarlo l'ultima volta e questa è la madonnina che c'era lì a all'orsi dell'immacolata ecco questo è stato un grande personaggio fatto stacche poi sul duma adesso qui ho preso voi leggete fate così io adesso lo vi leggo tu perché sennò diventa troppo lungo ecco vedete ottobre 92 è uscito questo avevo fatto questo notiziario duma in relazione a mio zio voi leggete intanto vedo che si legge abbastanza bene voi cliccate stoppate e leggete poi anche oltre a quello che ho messo io perché ho scritto ringraziamo parenti e amici che con la loro presenza funerale hanno dimostrato affetto per don cantino e in particolare come ha sottolineato il vescovo di asseverino poletto per la grandita presenza di padre giacomo bardelli dell'asma a rappresentare padre secondo perché secondo era in Africa e poi tutti i giornali ne hanno parlato ovviamente questa la stampa l'addio a don cantino queste sono tutte le foto che avevo fatto io e che le avevo cedute lì alla stampa i vari giornali per mettere tutto lì ecco voi leggete e vedrete qui la stampa ok poi c'è la provincia dove ha scritto anche la provincia altre cose ma più o meno si ripetono per i giornali poi si ripeto poi ecco questo è la gazzetta d'asti quella che ha raccontato di più perché la gazzetta ovviamente della diocesi quindi allora vi faccio solo leggo solo questo allora per capire bene chi era cosa diceva gli altri di lui si preparava con accuratezza scrivendo ogni sua predica e quando un confratello gli faceva visita con soddisfazione indicavo una grossa partita di quaderni frutto delle sue annotazioni ecco a proposito di questo nel museo che avevo appena detto a san bernardino c'ho la cartella dove ci sono tutti questi 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 quaderni dove lui e non c'era computer e quindi non poteva usava quaderni e soltanto le sue prediche che me l'aveva dato ovviamente tempo prima di morire me l'aveva lasciata allora possedeva una spiccata capacità di accoglienza per cui numerose persone anche altolocate lo avvicinavano esponeva la loro situazione ricevendo nel conforto umano e cristiano guarda voi leggete tutto bene io vi leggo solo alcune cose che mi sembrano più interessanti era veramente buon pastore che accoglieva la pecorella smarrita e con tanta dolcezza e comprensione la rimetteva nell'ovile e lo scritto a quello che scrive questo articolo che don vincenzo binello questo qua che me lo ricordo a cosa si sa di e con tanta dolcezza la rimetteva nell'ovile non vorrei esagerare dice appunto questo don vincenzo ma don secondo è stato un po il curato d'ars della diocesi di asti vita austera preghiera confessionale e cuore grande qualche confratello vorrebbe anche ricordarlo come parroco dei matrimoni in quanto la chiesa di via tosto per la sua antichità e per la sua posizione panoramica si prestava alla sembrazione del rito e matrimoniale qui apro un'altra piccola parentesi riguardo di quello ho un'altra borsa che mi aveva sempre dato lui con molte di queste foto dei matrimoni e io ne avevo dato una parte le più belle l'avevo lasciate lì al parroco che è venuto dopo che si chiamava d'originio che è già deceduto anche lui nel frattempo e lo lasciate e queste foto di matrimoni molto belle e lui aveva fatto un'esposizione una domenica fuori dalla chiesa dove la gente poteva vedere poi altra gente del paese la maggior parte di asti insomma e la gente ha potuto rivedere rivedere i matrimoni che lui aveva fatto erano tantissime erano tutti molto contenti e allora questo riguarda le foto eppure noto come molte persone si avvalevano della sua conoscenza di medicina popolare per curarsi ottenendo dei positivi benefici vabbè qui non dico niente perché non lo so ultima cosa eccola qua oratore brillante questo un altro pezzo di articolo brillante mordace per alcuni anni ogni domenica parlava dai microfoni di radio asti e le sue sferzanti polemiche avevano alla base non solo l'apostolato ma anche la difesa dei valori umani l'unità della famiglia e l'educazione dei giovani insomma era un tipo diciamo che era un tipo in gamba poi c'è ancora una cosa qui che che l'ho messa io in un posto vuoto che c'era dove c'è un po la nostra famiglia che eravamo andati a trovarla nell'85 tutti assieme e una foto di famiglia con nipoti e parenti vari e lui era lì era ancora lì bene sono proprio contento anche perché a questo del secondo glielo glielo dovevo anche un po non è pubblicità e ricordo ricordo di una persona a cui abbiamo voluto tutti bene per una persona che lui ha aiutato anche molti molti parenti amici oltre che tutti i parrocchiani come abbiamo letto era un tipo proprio bravo e in gamba e allora è giusto che abbia ripreso questi questi vecchi brani dei giornali anche perché poi alla fine tutte queste cose si perdono e così almeno sperando che durino un po di più del tempo ok allora io vi saluto state bene e al prossimo